Risultava disoccupato da mesi un 41enne marocchino residente a Campo San Piero, quindi per arrotondare era dedito allo spaccio di cocaina. I carabinieri lo hanno notato mentre mercanteggiava con un trentenne padovano. Controllati i due, gli uomini dell'arma hanno perquisito l'abitazione del marocchino trovando 54 dosi di cocaina già pronte. Il 41enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio, il trentenne segnalato alla prefettura. Grazie a tutti.